Ba ragazzi, mi sono ben Raff e oggi siamo qui con un nuovo, nuovissimo, primo episodio di Boom Beach Ragazzi, premetto che io non ho mai visto dei video, non ci ho mai giocato, per cui è la primissima volta Quindi, se avete consigli, strategie, tutto quello che volete, scrivetemelo nei commenti Detto questo, partiamo subito Partiamo subito Sì, sì, ho più di 13 anni Ok, comandante, siamo approdati con successo Tra l'altro, bellissima la sua faccia Questa sarà la nostra base operativa contro la minaccia della guardia nera Quindi noi dobbiamo combattere questa guardia nera No, non ho letto, porca miseria Torre dei cecchini Ok, ne mettiamo una Ci mette veramente poco Oh, chi è questo? Sono il tenente Humberman della guardia nera Non avevo capito che eri una guardia nera No, speriamo che il nostro cecchino riesca a respingere l'attacco Ok, osserva Che figata Sì, però ci stanno bombardando Regà, headshot Mamma mia Così hai respinto i miei rincoglioniti Ah no Ricognitori, ho letto male La prossima volta ti puoi scordare un combattimento ad armi pari Sì, 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 vai via Il nostro cecchino ha trionfato Premiatelo con una medaglia Ma se non ha fatto niente, dai, per favore Ok, mi sta che devo fare un esercito Vediamo un po' Che faccia? No, io lo voglio lui Uno? Ok Ok, ci serve un'altra barca Quindi la costruiamo adesso Ok, carichiamone altri Ce ne danno cinque Ok Fucilieri pronti! Che c'è? Facciamo vedere al nemico come si combatte Dai, spacchiamo tutto Base nemica Cos'è sta roba? Mettiamo i nostri bellissimi omini qua E uno qua Mamma mia Primo cannone distrutto Ormai abbiamo vinto Vabbè, questa era parecchio facile Chi è questa? Grazie per aver respinto gli invasori Ti restituiremo il favore Eh, io so che cosa voglio Ah, quindi noi non dobbiamo distruggere i villaggi Ma li dobbiamo liberare Perfetto Torniamo alla base Possiamo fare altra roba Quindi facciamo il magazzino d'oro Che sarebbe il deposito È molto molto simile a Clash of Clans Però al posto dell'Elisir Qui si deve raccogliere il legno Guardate che figata questo Non vedo l'ora di sbloccare tutti questi Omini Veramente, veramente fighi Soprattutto lei Visto che abbiamo le truppe Possiamo attaccare questo Ok, abbastanza facile Perfetto C'è un tesoro qui Che ho preso Cinque diamanti Grande Possiamo rinforzare delle truppe Quindi direi di farlo Potenziamo questa Perfetto Tra l'altro possiamo togliere tutti questi alberi Mamma mia quanti sono Grazie Mi ha dato dell'oro Grazie Sette Mi stai prendendo in giro Molto bellina la cascata E anche i gabbiani che volano Proviamo ad attaccare questo Dai, 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 dai Su Ce la facciamo Sì, sì E vai Materiali volatili Non ho capito cosa Significa Ah ragazzi Da quello che ho capito Se distruggi il municipio Distruggi tutto È come se avessi distrutto tutto Ho capito Tra l'altro qui escono uomini nudi Donne Non ho capito quanti muratori abbiamo Non so da dove si vede Ok, proviamo ad attaccare questa Anche se la vedo dura Noi ci proviamo lo stesso Sono parecchio forti questi Eh, sì Mi sa che non ce la facciamo Sì, sì Ce la facciamo Un pezzo di faro Anche qui Mi sono perso Ah, ok, ecco C'è un tesoro 23 diamanti Grande Questo vedo che ha un mortaio Non so se è un mortaio Proviamo a distruggerlo con questo No, cacchia Abbiamo 4 truppe Mi sono scordato Ma se mi ritiro Cosa succede? Ah, ok Non perdo niente Va bene Ha finito la nostra torre E siamo livello 2 Potenziamo l'abitazione Che non ho capito cosa serve Il mare sembra tipo carta Carta blu Ok ragazzi Per questo episodio è tutto Ovviamente andrò avanti col villaggio Lo potenzierò un pochino Ci giocherò parecchio Perché mi piace veramente tanto Per questo episodio è tutto Se vi è piaciuto Lasciate un mi piace Commentate Ed iscrivetevi Noi ci vediamo al prossimo giorno Con un prossimo video Da ragazzi